Siamo in piena campagna elettorale, pure della città non si parla, esordisce così il comunicato per l'incontro che si terrà il 6 febbraio del movimento Più Città, nato lo scorso maggio a Caltanissetta. Non si parla del suo futuro, dei prossimi 5 anni, né di quali i programmi staranno alla base delle presenti e future alleanze, continua la nota. Più Città, già a partire dalle cluster, agenda delle futuro del 17 novembre scorso, dove si è lavorato per tavoli tematici su sviluppo e lavoro, infrastrutture, parità sociali, cultura, politica e giovanile, organizzazione amministrativa, ha voluto rappresentare una posizione non personalistica. In questa fase Più Città esclude di individuare un proprio candidato sindaco. Il nostro interesse, precisano, è qualificare democraticamente il dibattito e condividere un orizzonte di ripresa e crescita. Il contesto, scrivono ancora, è difficile, ma non ne demordiamo dalla inusualità con cui è nostra intenzione procedere. L'appuntamento è mercoledì 6 febbraio alle 10, nella sala a riunioni di Voglia di Crescere in Vialeone XIII. Si discuteranno le linee programmatiche emerse durante il cluster e integrate nelle successive assemblee. Esse costituiscono una bozza, una proposta, su cui intendiamo confrontarci senza pregiudizi ed esclusioni, hanno concluso.